Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Diversi portali online, tra cui Wikipedia, menzionano che Teddy Reno, noto anche con il suo vero nome ferruccio Merck Ricordi, è un artista poliedrico. Cantante, produttore discografico e attore originario d'Italia ma successivamente divenuto cittadino svizzero. Durante gli anni Sessanta, ha pubblicato alcuni brani sotto un altro pseudonimo, Rick Mantovani. Riguardo a Rita Pavone, uno degli episodi più tristi e dolorosi della sua vita è stato il lutto per la scomparsa del suo fratello Cesare. Rita è stata accanto a lui fino all'ultimo momento e ha spesso parlato della profondità del loro legame. In una recente intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, ha condiviso la sua stretta connessione con i suoi fratelli e quanto profondamente l'ha colpita la perdita del più giovane di essi. Dal 2018, anno in cui Cesare è caduto malato, Rita ha dedicato il massimo del suo tempo possibile a lui. Ha enfatizzato l'importanza del legame fraterno e ha riconosciuto che nella vita ci sono momenti di tristezza e felicità, ma sono queste esperienze che rendono una persona più forte.